Buonasera, quattro minuti dopo l'una ultima edizione del nostro telegiornale. Apertura per la politica, perché parliamo della battaglia verbale, ormai una battaglia aperta tra Salvini e Di Maio, che oggi ha toccato punte davvero notevoli. Pensi a lavorare di più, dice Salvini, all'altro vicepremier che lo aveva accusato di apparentarsi in Europa con i partiti che negano l'olocausto, mentre l'opposizione fa notare che di questi teatrini non se ne può più. Continua il duello a distanza tra i due vicepremier sul tema delle alleanze europee della Lega, dopo le parole di fuoco del capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio, che in un'intervista al quotidiano tedesco di Welt si era detto preoccupato per la presenza di negazionisti della Shoah. Non mi appassionano i dibattiti sul passato storico, nessuno nega niente, noi faremo alleanze con chi vuole cambiare l'Europa, risponde Salvini a Genova per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sul Ponte Morandi, che non risparmia di affondare il colpo. Io lavoro, io rispondo con lavoro, con i fatti, dice il leader della Lega, questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani e vesuviani, i ministri sono pagati per lavorare. E rivendica la sua azione di governo Salvini, che chiede concretezza agli alleati Cinque Stelle per sbloccare i cantieri fermi e le opere pubbliche per superare i no pentastellati a partire dalla TAV. Cosa penso delle parole di Salvini? Non saprei. Ultimamente sento i leghisti un po' nervosi. Scherzandomi verrebbe da dire da che pulpito viene la predica, ma la prendo con leggerezza la risposta di Di Maio, da Sum, la due giorni del Movimento Ivrea. Il ministro del Lavoro in giornata era tornato sulle preoccupazioni rispetto agli alleati della Lega in Europa, sottolineando l'importanza della memoria. Ci risparmiano inutili sceneggiate, mentre i cittadini e le imprese di questo paese stanno continuando a pagare sulla propria pelle il dilettantismo e l'incapacità di questo governo, dice intanto il segretario Dem Nicola Zingaretti. E sul fronte del DEF, la Lega insiste perché la flat tax venga espressamente citata nel documento di economia e finanza, che il governo varierà la prossima settimana. In realtà sembra che i giochi siano ormai fatti e il documento non dovrebbe contenere sorprese. La previsione di un PIL in crescita solo dello 0,2% potrebbe essere addirittura eccessiva per l'Italia, lo dice il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombroskis, secondo il quale il nostro governo dovrebbe cominciare a valutare l'attivazione di 2 miliardi di clausole di salvaguardia per non sforare del tutto i parametri europei. Il rapporto tra deficit e prodotto interno sembra infatti destinato a crescere fino a toccare probabilmente proprio il 2,3-2,4%, livello che Roma voleva prima del ridimensionamento imposto da Bruxelles. Proprio la crisi però potrebbe essere l'appiglio al quale aggrapparsi per evitare almeno una manovra aggiuntiva. In caso di recessione infatti i parametri europei si fanno più blandi. Un impatto sul PIL c'è chi dice intorno allo 0,4%, il governo spera possa arrivare dal decreto crescita e dallo sblocco a cantieri. Tria peraltro oltre al pressing europeo deve rispondere anche a quello dei suoi alleati di governo in particolare sull'inserimento nel DEF della flat tax. Non c'è più tempo di timidezza e paure ma ci vuole coraggio e visione e lo incalza il sottosegretario leghista dell'infrastruttura Armando Siri. Prima del baro del DEF Marte di Endra risolta anche la questione dei rimborsi delle banche ai correntisti truffati. Sergio Zanotti, rapito nell'aprile del 2016, liberato ieri, ha parlato nel corso dell'audizione davanti al procuratore aggiunto Francesco Caporale e al sostituto Sergio Colaccio della Procura di Roma che per tre ore lo hanno ascoltato in una caserma del ROS. Ero senza lavoro, ho deciso di andare in Turchia nella zona di Hatay a pochi chilometri dalla Siria per cercare di acquistare dinari da rivendere in Europa dove nel mercato della numismatica hanno un valore. Sono stato però venduto dal mio tassista abusivo a dei miliziani che mi hanno narcotizzato. Il 14 aprile del 2016 mi sono risvegliato in una casupola nella zona di Aleppo. Zanotti è tornato in treno a Brescia e in serata ha cenato con la sua famiglia, le tre figlie e la sorella. Intanto si dirige verso Malta la nave Alan Kurdi col suo carico di migranti. Il Viminale aveva concesso lo sbarco solo per due donne e i loro figli che però hanno rifiutato per non dividere le famiglie. La ONG tedesca ha attaccato Salvini, ha detto umilia i migranti per vantaggio politico, mentre un'altra ONG mediterranea ha presentato un esposto contro il governo per il sequestro della nave. Il via libera non è ancora arrivato. La Alan Kurdi staziona ancora in acque internazionali a 30 miglia dall'isola di Malta, in attesa che le autorità della Valletta permettano all'imbarcazione della ONG tedesca, SIAI, di condurre finalmente in porto il suo carico di 64 migranti messi in salvo da un gommone in avaria mercoledì scorso a largo delle coste libiche. A bordo la situazione non lascia tranquilli, abbiamo bisogno di un rifugio sicuro, ora fanno sapere i volontari della SIAI, il tempo sta peggiorando, significativamente il cibo è razionato per tutti. Dicono e aspettano quella autorizzazione mai arrivata dalle autorità italiane che a Lampedusa avevano dato il permesso solo per lo sbarco delle donne con i loro bambini, un'offerta rifiutata dalle mamme che non hanno voluto separarsi dal resto delle loro famiglie. L'ONG tedesca ha accusato il ministro dell'interno italiano di aver umiliato i naufraghi e sfruttato la situazione per trarne un vantaggio politico. Nel frattempo un'altra organizzazione non governativa, Mediterranea, ha depositato un esposto alla procura di Agrigento per il vieto di sbarco dei profughi a Lampedusa imposto dal Viminale in applicazione della nuova direttiva Salvini. Ordini illegali, secondo Mediterranea, che ha chiesto e ottenuto l'apertura di un fascicolo d'indagine al procuratore di Agrigento, patronaggio, lo stesso che quest'estate avviò l'inchiesta sulla 18 sulla base di un presunto sequestro di persone a danno dei migranti. La stessa ONG, Mediterranea, con un colpo ad effetto, si prepara a ospitare a bordo di Mare Ionio il senatore Gregorio De Falco, l'ufficiale delle Capitanerie di Porto, divenuto celebre per il suo ruolo nei soccorsi alla Costa Concordia, eletto nelle file del Movimento 5 Stelle ma passato ben presso al gruppo misto, in aperto disaccordo per alcune scelte dei leader pentastellati. È sempre molto difficile la situazione in Libia, si combatte a pochi chilometri da Tripoli mentre l'Eni ha deciso di evacuare il personale italiano. Stasera il capo del governo di accordo nazionale libico, il premier Al-Sarraj, ha accusato il suo rivale, l'uomo forte della ciranaica, Khalifa Haftar, di averlo tradito, lo ha messo in guardia da una guerra senza vincitori e ha promesso di rispondergli con forza e fermezza. In un discorso alla nazione teletrasmesso il premier si è detto sorpreso dell'offensiva militare di Haftar, messa in campo in un momento in cui si profila una soluzione politica per la Libia e ha detto di sentirsi pugnalato alla schiena. Sarraj ha aggiunto che Haftar spinge la Libia e i libici su un terreno sconosciuto che rischia di scatenare un bagno di sangue. Voltiamo la decisamente pagina perché parliamo del campionato, gli anticipi della trentunesima giornata, ebbene il Milan in rimonta è stato battuto dalla Juventus e la Roma è tornata a vincere 1-0 in trasferta in casa della Sampdoria. Il destino dello scudetto è nelle mani di Napoli e Genoa, in caso di sconfitta degli azzurri sarà l'ottavo titolo di seguito per la Juventus, vittoriosa 2-1 nella classica sfida con il Milan. Rossoneri inizialmente più propositivi rispetto ai padroni di casa. Nel finale di primo tempo è un disimpegno sbagliato di Bonucci a spianare la strada al vantaggio milanista. Babaglio Cocci crede fino all'ultimo e serve a Piontek il pallone del 29esimo gol stagionale per il bomber polacco. Nella ripresa, dopo l'occasione non finalizzata da Borini, i due gol che riportano a gala la Juve. Pareggio con il rigore concesso per fallo di Musacchio su Dybala, segnato dall'argentino con una rischiosa traiettoria centrale. E a sei minuti dal termine, Moise Ken, decima rete in carriera, si conferma all'uomo del destino. Suo il destro sul tocco in area di Pjanic, che mette nel mirino dei bianconeri l'ottavo scudetto di seguito. Nella zona Champions prova a rientrare la Roma, che sul terreno della Sampdoria regala a Claudio Ranieri una vittoria importantissima. E non a caso il sigillo è di un altro capitolino d'occa, Daniele De Rossi, che rompe in area sulla deviazione del portiere Doriano a un euro. I giallorossi, che hanno colpito nel finale un palo con Zaniolo, affiancano provvisoriamente l'Atalanta in quinta posizione. Il sabato di campionato lo hanno aperto Parma e Torino, 0-0 con occasione sprecata dalla squadra di Mazzarri in chiave Champions e dai Ducali in prospettiva salvezza. Domani, oltre a Napoli Genoa, da seguire due sfide chiave per l'Europa, Inter Atalanta e Lazio Sassuolo. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.